E ora a Siena, dove questa mattina è arrivato anche Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, a partecipare all'assemblea dei soci del Monte dei Paschi di Siena. Ha parlato prima di entrare con i giornalisti, ha attaccato duramente le banche e in particolare ovviamente il Monte dei Paschi di Siena. Sentiamolo. Quindi qui siamo nel potere vero e andiamo a dirgli quello che pensiamo di loro, specificatamente di questa banca. Cosa pensate di loro? Lasciano deficit, bilanci di miliardi di deficit e se ne vanno con 30-40 milioni di bonus. I piccoli azionisti sono tagliati fuori. Gli azionisti dovrebbero decidere loro chi è l'amministratore delegato con un click, ovunque siano senza fare raduni così che sono dell'Ottocento, dire se un amministratore è andato bene e dargli il bonus, se è andato male e mandarlo a casa e decidere loro chi è l'amministratore delegato. Il fatto di una banca così, oggi l'amministratore delegato di una banca così, se ne va con uno stipendio ed un bonus di 1.100-1.200 volte il suo impiegato. Quindi è un potere che va assolutamente ridimensionato. La banca deve tornare a fare la banca, la finanza deve tornare a fare la finanza. Un potere dietro al quale, secondo Grillo, c'è un altro potere? Sappiate che qui la fondazione che ha quotato in borsa un'azienda che valeva 20 miliardi, anche se vale due, i soci e la fondazione sono stati nominati dalla provincia, dalla regione e dal comune che erano in quota di un partito politico. Io sono andato a vedere se era il sud Tirolo for Spartai, se era il partito sardo di azione, ma hanno detto di no, neanche l'Union Valdotel c'entra. Quindi qui siamo nel cuore della peste rossa, qui siamo nel cuore del vuoto di scambio. Intanto qui continuano a votarla perché ti dà il lavoro, ti dà le cooperative, ti dà i finanziamenti, su tutto. Questo è il vero mafia del capitalismo, è qua, non è in Sicilia. Sicilia non scambia l'opinente perché non c'è una lira. Monte dei Paschi è in tutte le situazioni, in tutti gli appalti, dagli inceneritori alle biomasse, a tutto ciò che è contro o la salute o contro il dinamismo del futuro di questo paese.